cari amici buon pomeriggio questa è l'ultimissima domani facciamo altre due adesso viviamo il racconto della puntata di settimana scorsa di All Elite Wrestling Dark ovvero quei match che vengono registrati prima e dopo la puntata consueta settimanale di Dinamite ma prima voglio affacciarmi un attimo in Davide lui oggi compie 55 anni il nostro caro Becchino imprenditore di pompe funebri di Undertaker ed inoltre non è chiaro il discorso se il re misterio sia stato contagiato dal covid-19 coronavirus ma per precazione non prenderà parte l'edizione di quest'anno di Presta Almenia quindi come dice ce ne faremo una ragione ora prima di andare a commentare in questa puntata di All Elite Dark vedremo Colt Cabana colt Cabana a proposito di questo atleta credo che a abbia fatto come del resto tutti quanti Vrestler un paio di anni di esperienza per non dire gavetta nella Ring of Honor e altre federazioni minori indipendenti Avalon non vi so dire dove ha lottato in precedenza può darsi anche lui il Ring of Honor in questo momento fase dalla condesa abbastanza concitata una girandola divertente quasi a conteggio per l'arbitro ora ribaltamento di fronte Vida Ravalo sottomette Colt Cabana in Dando vedo all'esterno del Ring una persona con un foglio di carta dove ci sarà scritto qualcosa incredibile incredibile conteggio in pochissimo tempo Colt Cabana supera Peter Avalon incredibile incredibile continuano la serie di vittorie per Colt Cabana che abbraccia anche il direttore di gara ma ora con la sindesi andiamo subito al prossimo match quello che sarà come vi ho citato all'inizio Jack Evans e Angelico contro Cutler e Nakazawa ecco qui la regia mi ha fatto ricordare ecco qui la regia mi ha fatto ricordare come Jack Evans e Angelico chiamati soprannominati gli ibridi arrivano Cutler e Nakazawa iniziano già le tensioni se avete sentito il tik tok della campanella che ha sangito l'inizio della contesa azione propositiva di Ivans e Angelico azione propositiva di Ivans e Angelico ah si stavo dimenticando comunque per la puntata che però è stata già registrata di SmackDown di questo venerdì vedremo un nuovo episodio della Firefly Fan House di The Fiend Pre-Wire che ricordiamo sfiderà John Cena di presto al meglio ma torniamo all'episodio di oggi di All Elite cioè di oggi di sette giorni fa di All Elite Dark invece tra la notte tra oggi e domani allo scoccare della mezzanotte è una nuova puntata su YouTube di All Elite Dark qui la direttrice di gare che danno cerca un po' di allontanare uno dei due partner dell'ibridi perché non era l'uomo legale qui prova quasi una gira a volta credo sia stato forse Ivans non mi ricordo bene la i volti cioè non li so ancora bene distinguere perché diciamo la mia prima federazione che seguo comunque la WWE ah allora ecco adesso quindi allora il wrestling più cappellone dell'ibridi è Giacomo Ehmans detto da Taz che è al commento come di consueto con Excalibur oltre ovviamente al al noto Tony Schiavone che commenta Dinamite che ricordiamo ogni settimana in diretta in America su un TNT ogni mercoledì e in Italia visibile il commento originale inglese su Fight TV è un momento divertente della sfida qui uno dei due tra Cutler e Nakazawa aveva buttato forse era un po' di acqua addosso a Jeff T. Evans è quasi vicino al 3 vincente Cutler e Nakazawa trent c겠어요 leg drop bellissimo di doveva essere stato vediamo Cutler e qui vola dove osano le aguile cattola fuori dal ring per un ciuffo d'erba quasi tre oh sbagliano Cutler e Nakazawa si colpiscono vicenda uno vola da una parte e l'altro ne approfitta dall'altra running powerbomb come Cidex Calibon bellissima questa mossa che chiude un match vinto da Jeffy Evans e Angelico e ora invece è il momento del main event Christopher Daniel Scondro Grayson ma credo che ci sia qualcuno con Eddington dei Dark Order finalmente inizia la speed Daniel Snodro per i suoi successi nel corso degli anni sia in Ring of Honor e soprattutto nell'ex TNA Impact Wrestling e Grayson qui ribalta tutto e a terra al cindro del quadrato Daniels e il Sì. chop famoso colpo a mano piatta che va a colpire gli addominali, i pettorali dell'avversario Daniels è andato un gondeggio, ci riprova uno, due, niente niente vittore per Grayson, Daniels alza la spalla sinistra Daniels alza la spalla Grayson vola, conteggio ma vede l'arbitro che è irregolare allora va sul paletto però ho sbagliato tutto mi approfitta Christopher Daniels grazie 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 dvd bellissima di greco e questa mossa assomiglia a qualsiasi la play more kick di drew mckinnon Grazie a tutti. E' inseguri su Grayson. Bella questa, grande Grayson. Ma non vince. E' qui, è qui Cascala. E Dennis ne approfitta. Uno, due, uuuuh. Non se ne accorge però che Grayson ha lo spazio necessario per appoggiare la gamba sulla corda. Grande match di chiusura e di puntata, come al solito. E qui mi sa che è finita davvero. Sotto missione micidiale di Daniels. Ma uno dei dark order interviene, disturba l'arbitro. Rivalda Daniels. E vince in maniera rocambolesca. Ma poi lo stesso Christopher Daniels viene aggredito dai dark order. Comunque finisce qui la puntata di All Elite Wrestling Dark Order di sette giorni fa. Quindi, ribadiamo per la puntata di Dinamite di mercoledì. Se la memoria non mi inganna avremo la cosa più importante, un pace to pace tra Matardi e Chris Gerico. Mi pare Cody Ross contro Jimmy Evo. Poi c'è un altro match ma ora non mi viene in mente. Bene, grazie a tutti e alla prossima. Buon proseguimento di giornata. Ciao!